basta un commento di annalisa chirico per far perdere la calma a ellis clan la giornalista e la segretaria del pd sono ospiti di bianca berlinguerra è sempre carta bianca se rete 4 e l'analisi politica della leader dem sembra un po carente o perlomeno parziale in questa manovra il governo taglia sanità e pensioni manca il diritto allo studio con le pur poche risorse a disposizione si potevano fare scelte molto diverse come ad esempio il salario minimo legale spiega la sclen poche ore prima giuseppe conte suo alleato rivale aveva dato vita alla camera uno show circense strappando il testo del salario minimo scena imbarazzante ma non per i democratici.quando il discorso cade su giorgia meloni a elli parte definitivamente la frizione si ha l'impressione che meloni comandi nel suo partito mentre a sinistra si fanno sempre nomi di uomini come federatori o leader che è un retaggio maschilista anche nel pd domanda la chirico replica più che gelida giorgia meloni ha fondato il suo partito ed è rimasta alla guida senza mai essere mai stata messa in discussione io mi sono candidata nell'unico partito non personale che fa le primarie e l'ho fatto per cambiarlo di fatto una non trattino risposta.il caso del giorno sono stati senza dubbio i funerali di giulia cecletin un campo che permette alla segretaria del pd di esibirsi sul terreno di slogane parole retoriche si spera che il dolore per la morte di giulia possa essere un punto di svolta per il nostro paese dobbiamo approvare una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività in tutti i cicli scolastici serve anche la prevenzione.quindi la conclusione con fuochi d'artificio dobbiamo cominciare dalle famiglie e dalle scuole a distruggere gli stereotipi di genere prima che si radichi l'idea del possesso sul corpo delle donne quindi Grazie a tutti.